Ancora cronaca, torniamo a parlare di prostituzione, 5 gli arresti in Puglia sgominata dai carabinieri, una organizzazione criminale a conduzione familiare, tra le vittime anche una ragazza disabile. Della promozione si occupava una donna che fotografava le ragazze in posio sé e postava gli scatti sui siti internet. Il resto dell'organizzazione era in capo a due fratelli ad altri due sodali, di Corato, Modugno e Terlizzi, che decidevano i turni di lavoro delle ragazze, dalle 9 alle 20 anche di domenica, le accompagnavano nei controlli sanitari, gestivano gli appuntamenti. I carabinieri di Trani e Ruvo, coordinati dalla procura di Trani, hanno sgominato un'organizzazione criminale dedita al favoreggiamento della prostituzione. 5 le persone arrestate, una banda guidata da Leonardo Castelli, trentenne di Corato, aiutato dal fratello Paolo e dalla cognata. Per liberare il mercato dalla concorrenza, i due con una soffiata alla polizia, lo scorso aprile avevano fatto arrestare un terzo fratello, anch'esso interessato allo stesso business. Una decina le ragazze cadute nella rete criminale, italiane, rumene, una francese, una di 28 anni con disturbi della personalità. Le ragazze si prostituivano per strada, sulle provinciali e in una villetta fittata da uno dei sodali, di Modugno. Le indagini dei carabinieri, durato un anno, hanno scandagliato la vita delle ragazze. Gli uomini dell'arma hanno perfino passato a setaccio i sacchetti della spazzatura delle villette, luogo dell'incontro per verificare la presenza dei contraccettivi. Molte vengono in Italia con la prospettiva di un impiego, poi in realtà attraverso queste aguzzine si trovano ad essere impiegati sulla strada. Nel caso di specie erano pure impiegati in un'abitazione dove venivano coinvolti, chiamate di cliente attraverso dell'inserzione su internet. Cambiamo argomento, è stata pubblicata la graduatoria definitiva degli eventi di ritto alla social card. Molto tempo è stato impiegato per effettuare le operazioni di verifica dei circa 120 ricorsi presentati, 80 dei quali sono stati ammessi. Dal mese di settembre, ha commentato l'assessora al welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico, per un anno 400 cittadini baresi riceveranno un contributo economico compreso tra 180 e 381 euro che rappresenta un'ulteriore forma di sostegno rivolta alle persone in difficoltà che nella nostra città possono già contare su prezioso lavoro svolto dalla rete di associazioni di volontariato e privati cittadini disponibili a supportare l'iniziativa in favore delle fasce più deboli della popolazione. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Bari. È stato prorogato al 10 settembre il termine per l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico fissato inizialmente per il 31 agosto. L'iscrizione al servizio deve essere effettuata esclusivamente online sul sito istituzionale del Comune di Bari. Per un aiuto nella procedura online è possibile rivolgersi entro il 10 settembre al personale incaricato dei municipi di appartenenza ex circoscrizioni. Parliamo di ticket sanitari. Dal 26 agosto il costo della prenotazione in farmacia è di 2 euro. Vediamo qual è stata la risposta di clienti e farmacisti. Visite mediche specialistiche. Dal 26 agosto prenotarle presso la farmacia di fiducia costa 2 euro. L'accordo è stato raggiunto dalla Regione Puglia con la Federazione dei Farmacisti alleggerire il lavoro dei dipendenti della farmacia ma soprattutto i costi di gestione del servizio. A volte era necessario assumere un addetto che si occupasse solo e solamente della pratica di prenotazione. Forse però pesare sulle tasche dei cittadini poteva essere evitato. Ad alzare il polverone ieri in Consiglio regionale l'opposizione, i ticket sanitari, un'ingiustizia in tempi di crisi. La risposta dei clienti baresi però non pare sia stata delle più negative. Certo un calo di prenotazioni si è sempre registrato. C'è stato un calo di prenotazioni? Sicuramente, sicuramente. Qualcuno prima della data ma poi in realtà c'è stato un deciso calo. È stata abbastanza presa bene, nonostante si pensava ad una sorta di guerriglia. In questa zona, almeno qui in farmacia, non c'è stato nessuno che si è lamentato. Non c'è stato un granché di cambiamento. Diciamo che più o meno le prenotazioni sono rimaste, il numero di prenotazioni è rimasto inalterato, pressoché inalterato rispetto a prima. Ma è una necessità, spesso e volentieri gli anziani non riescono a recarsi comunque personalmente al CUP, magari del Policlinico o lunghe attese telefoniche. Quindi è comunque una comodità e pertanto rimane pressoché inalterata. Le prenotazioni potranno essere comunque effettuate gratuitamente presso il CUP dell'ASL barese o telefonicamente al numero verde. Ma qual è la risposta dei farmacisti baresi? Naturalmente è un peso a carico del cittadino, però è una cosa che noi non riusciamo più a fare gratis, insomma, perché poi abbiamo dei costi, il personale che se ne deve occupare. Riusciamo a gestirla meglio in modo tale che, anche definendo un po' la fascia oraria di prenotazione, riusciamo ad organizzarci un po' meglio senza stare appunto fissi. Sono sì, sono d'accordo perché era diventato un servizio abbastanza invadente per noi farmacisti, che comunque dobbiamo svolgere un lavoro al banco. Sicuramente potrebbe anche essere modificato. Cioè a questo punto ho letto anche di alcune proposte di pagare il ticket direttamente qui. Avrebbe anche ancora più senso. Arriva Godot, nuove proposte per accrescere il mondo della cultura e del turismo. Al via oggi i lavori della prima conferenza generale delle culture e del turismo organizzata dal comune di Bari. C'era per noi Barbara Cirillo. Il Godot di Beckett, noto a tutti, non è mai arrivato. Ma non si sono fatti attendere operatori del settore culturale e turistico che questa mattina sono accorsi nella sala Murat per la prima conferenza generale delle culture e del turismo organizzata dal comune di Bari. Arriva Godot insieme a proposte e ad idee che potranno contribuire a stilare il programma dell'assessorato comunale per i prossimi cinque anni di governo. Tutti a raccolta per parlare, discutere, ma soprattutto per ascoltare. Sette minuti a disposizione per ciascuno. Ad aprire le danze il sindaco Antonio De Caro, seguito dagli assessori regionali Silvia Godelli e Angela Barbanente. A darsi appuntamento anche moltissimi rappresentanti della cultura barese, dal teatro alla danza, dal cinema al mondo musicale. E' così che il metodo partecipato, adottato dalla nuova giunta comunale, investe anche il mondo della cultura e del turismo. Due realtà che hanno fatto sì che la Puglia sia ad oggi uno dei pochi paesi europei ad aver conosciuto una crescita. Domani si concluderanno i lavori di questa prima conferenza. Le conclusioni saranno affidate all'assessore alla cultura del comune di Bari Silvio Maselli che si prepara ad affrontare i tanti appuntamenti già segnati sull'agenda. I prossimi obiettivi sono diversi. Certamente quello di preparare la stagione invernale, in particolare pensando al Natale e al Capodanno. E poi quello di consentire agli operatori di programmare triennalmente, di avere all'inizio dell'anno certezza delle risorse e dei programmi. E poi quello di orientarli, di non lasciare più che l'assessorato alla cultura sia una specie di slot machine dove inserisci un gettone e ottieni denaro, ma che sia un assessorato che diffonde un'idea e su quella invita tutti ad attenersi dentro linee guida. Torna anche quest'anno Lector in Fabula, il festival di Conversano giunto alla decima edizione. Quattro giorni dall'11 al 14 settembre di incontri, dibattiti e approfondimenti con i protagonisti del mondo culturale e politico. Il tema scelto per quest'anno è privato, pubblico e comune. Ricco il format del festival organizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno. Il programma sul sito www.lectorinfabula.eu Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo nuvoloso, temperature comprese tra 16 e 26 gradi, venti moderati, mari poco mossi. Come sempre vi ricordo dei nostri indirizzi internet www.telebari.it e radiobari.net e l'indirizzo di posta a voi dedicato infochiocciola e il segno di zorro.it Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento più tardi. Grazie!